Grazie, buonasera, grazie. Allora, questa sera vi racconterò delle barche a lette. Allora, in un piccolo paese, un gondadino di circa 55 anni, mentre coltivava il suo piccolo orto distante dal paese, circa 2 km, gli venne la voglia di fare l'amore con sua moglie. Quindi, di corsa, ritorna a casa, ma, ahimè, appena che rientra tutto l'anzante, ha cercato in tutti i modi di fare l'amore, ma non ci è riuscito. A questo punto si è messo paura e vado al dottore. Dottore, mi succede questo, questo e questo. Ho solo 55 anni, ma è possibile che alla mia età non riesco più a fare l'amore. Quando sei fessa, dice il dottore, ma perché non fai venire tua moglie da te? Così tu sei tutto bello riposato e fai quello che devi fare. Ma come faccio? Ma come faccio sapere mentre io sto in campagna? Una telefonata, è semplice. Ma io il dottore, il cellulare non ce l'ho. Il dottore dice, ma il fucile ce l'hai? Sì, il fucile ce l'ho. Allora, prendi il fucile, spara un colpo e lei viene da te. Allora dottore, questo mi consigli? Sì, questo devi fare. Va bene dottore, grazie e arrivederci. Tre mesi più tardi, il dottore, passeggiando per il paese, vede il suo paziente in piazza. E lo ferma e gli dice, signor Manguso, come è andato quel suggerimento che le avevo dato giorni fa? Tutto benissimo, fantastico, ma è una cosa bellissima. Grazie dottore, ma però adesso non ce la faccio più. E dice, perché? Perché da quando si è aperta la caccia, mia moglie ogni due minuti è là. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti